Buone impressioni, poi sono arrivato da due giorni, però contro una pari categoria, secondo me, la squadra ha fatto un'ottima partita. Io a campo basso, insomma, ho sempre vista dall'esterno come una piazza calda, quindi so che l'anno scorso si è ricreata un po' di entusiasmo e niente, speriamo che quest'anno ci diano una mano e ci spingano anche loro. Per me è comunque un'esperienza che prosegue la mia carriera in una piazza comunque importante in questa categoria e anche in categorie superiori, quindi cercavo questo, cercavo una piazza che mi stimolasse e che non mi spegnesse nonostante l'età mia, quindi io cerco questo, a questa età, almeno personalmente, cerco ambienti che mi stimolino un po'. Grazie 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 Grazie